Questo breve video spiega la procedura di trapianto di capelli con tecnica FUE. Passaggio 1 Come prima cosa viene somministrata l'anestesia locale, in dolore e senza l'uso di aghi. La procedura micro FUE ha inizio estraendo i follicoli dall'area donante. Passaggio 2 Aprendo i micro canali attraverso l'utilizzo della pietra di zaffiro o la metta. Passaggio 3 I follicoli vengono trapiantati. E' possibile che i passaggi 1 e 2 vengano invertiti se richiesto dal caso. Benvenuto da Clinicana Attano Iscriviti al canali